Open Gangnam Style Gangnam Style Eccoci qua dopo la partita di semifinale di Coppa Carnevale tra il Casano e il Socio e lo UNES abbiamo qua per lo UNES e Guillermo, giusto? Guillermo di nome o di cognome? Cognome Di nome? Rosario Rosario, portiere dello UNES che ha imparato i rigori? Sì E non hanno segnato neanche un rigore? A me? Io lo sì Ah, un rigore segnato, giusto? Perché ha finito il capo dei Socio con un rigore segnato e abbiamo qui Valenti Valenti tu hai segnato il rigore? No Un tuo amico, chi era il tuo amico? Chico Chico ha fatto il gol che ha portato in finalissima di Coppa Carnevale quindi una bella finale per voi, sei contento? Sì Come ti chiami di nome? Salvo Almeno il nome lo sai quindi Salvo Salvo e Salvo Salvo e avete fatto una bella partita cosa vi ha portato alla vittoria? Eh, bene 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 E dico, l'altra squadra era forte, era scarsa, com'era? Oh, buona Anche perché 0-0 e 2-2 vuol dire che è stata una partita equilibrata? Sì Siete passati in vantaggio voi? Sì Due volte oppure una volta Tre volte Tre volte Quindi avete fatto tre gol Non è vero È finita 2-2 Allora, portierone Peccato per aver preso i rigori Forse potevi fare meglio, non lo so Può essere? Sì Beh, ma i rigori è una lotteria Si sa, non è facile parare i rigori Sì Anche Buffon non para tutti i rigori Certo È vero Quindi pazienza, succede Andate a fare adesso la finale, terzo o quarto posto Che obiettivo avete? Di vincere Vincere? Comunque terzo o quarto È bellissimo Mi potete dire, ti sei divertito? Certo Mi fa piacere? È una bella giornata Vuoi una caramella? Sì, grazie Allora, tutti a prendere le caramelle Dall'Alfa Sport è tutto Grazie